Entro fine 2024, evento sconvolgente, legato a un segreto di Mediugorie, scuoterà la Terra. Questa profezia è stata rivelata da un veggente americano che, una notte, fu destato da una voce misteriosa. Nel silenzio buio della sua stanza, ha avvertito la presenza della Santa Vergine, con un'espressione di grave preoccupazione sul volto. Così, sotto l'impulso di un messaggio divino urgente, ha sentito il dovere di condividere le parole che gli sono state confidate, un avvertimento che trascende il tempo e lo spazio, un grido di allarme per l'umanità nel suo insieme. Con questa premessa, immergiamoci nelle parole profonde e penetranti della profezia. Leghiamo la profezia. Cari figli, sono la regina della pace, e le mie parole portano un avvertimento urgente. L'umanità è immersa nell'abisso del peccato, e il tempo del grande ritorno è giunto. Entro la fine dell'anno 2024, un evento sconvolgente, forse legato a uno dei segreti di Meggiugorie, scuoterà la terra. Il cielo si tingerà di rosso come il fuoco, un segno terribile di avvertimento. Coloro che non si saranno convertiti affronteranno una fine tragica. Vi esorto ad aprirvi al Signore e a costruire la giustizia e la pace. Lasciate che i vostri cuori siano pervasi da amore e pace, altrimenti affronterete nuovi cieli e una nuova terra. Ma non saranno terre di benedizione, bensì di rovina e distruzione. Siate coraggiosi, ma siate anche cauti. Il diavolo cerca di allontanarvi dal vero amore di Dio, e molti sono caduti nelle sue trappole. Pregate con fervore e chiedete perdono al Signore per i peccati che hanno offeso il cuore di mio figlio Gesù. Questi sono tempi oscuri e sanguinosi, e senza pentimento, l'umanità affronterà un terribile castigo. Non rimandate il vostro ritorno al Signore. Dio affretta, e il tempo si sta esaurendo. Sono vostra madre e desidero ardentemente la vostra conversione. Il Signore vi aspetta a braccia aperte, ma è necessario ritornare a Lui prima che sia troppo tardi. Coraggio, perché chi è come il Signore non sarà mai sconfitto. Ma ricordate, il destino della vostra anima è in gioco. Coraggio, perché chi è come il Signore non sarà mai sconfitto.